Certo. Mi spiace per prima, non ho saputo intervenire, ma... No, guardi, non lo dica nemmeno per scherzo. Io non sono stata una buona madre. Quando dall'ufficio delle adozioni ci hanno chiamato e ci hanno detto che era una bambina, io e Massimo non eravamo preparati. Io non ero pronta. Pensavamo che ci volessero tanti anni, ma non era così. Sa, è buffo, no? Uno pensa, la gente in genere pensa che ci hai potuto pensare quando devi adottare, ma non è così. Noi le abbiamo dato tutto quello che chiedeva, tutto quello che avevamo, ma non era abbastanza. Sapeva essere cattiva. sapeva come ferirci. Sa che cosa mi ha detto? Tu non sei mia madre. E allora io cedevo. Le facevo fare tutto quello che voleva. E così mio marito la stessa cosa. Ho fallito. Abbiamo fallito tutti e due. Non è vero. Voi l'avete salvata. Chi l'ha abbandonata ha fallito. Voi avete fatto tutto il possibile. Da quando non c'è più Angelica lei è la cosa migliore che ci sia capitata. Non ci abbandoni. C'è colore. wascala.